Oh! Ciao! Guarda quanti giocattoli ho! E anche un quadriciclo! Pip pip! Ciao! Giochiamo insieme! No! Sono i miei giocattoli! Oh! Posso andare sul quadriciclo? No! È il mio quadriciclo! Oh! 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 Ho trovato qualcosa! È un baule con i tesori! Come pesa! Il baule! Aiutami a tirarlo fuori! Va bene! Spostati! Su, dai! Quanto pesa! Su, dai! Su, dai! Dai! Sto, sto, sto! Basta! Cosa c'è? Aprilo subito! Quanti soldi! Soldi! Mi compro tanti dolci e tante cose buone! E io mi compro un vestito, delle scarpe e un rossetto! E non li divido con te! Perché tu non mi hai fatto giocare con i tuoi giocattoli! Pronto? Consegna! Vorrei una bibita gassata, patatine e caramelle! Di qua, di qua! Venite da me! Stop! Ciao! Che buono! Ne voglio anch'io! Non hai condiviso con me i tuoi giocattoli? Facciamo a cambio con i miei giocattoli! No! Allora prendi i giocattoli e il quadriciclo! No! Allora prendi i giocattoli, il quadriciclo e il mio castello! Non ho nient'altro! Accetto! Che bello! Che bello! Adesso ho un castello e tanti giocattoli! Non c'è più niente! Che bello! Che bello! Jogliamo insieme! Grazie.